Gentili colleghi, cari colleghe, come si dice in romanesco, a riechice, siamo a parlare del nuovo decreto legge, il decreto legge 2 2021 e del dpcm datato 14 gennaio 2021. Cerco di andare veloce perché le cose da dire sono un po' e quindi non mi perdo in convenevoli. Allora la prima cosa, lo stato di emergenza viene prorogato fino al 30 di aprile 2021, questo serve per poter emettere ancora dei dpcm e per tutta la gestione della protezione civile, per cui insomma stato di emergenza fino al 30 aprile 2021. Dal 16 gennaio, quindi da domani, oggi è il 15 gennaio, dal 16 gennaio e fino al 15 febbraio il decreto legge prevede che sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra territori di diverse regioni o province autonome, quindi non ci si può spostare tra regioni. Salvi ovviamente i soliti spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Questo è ormai, ecco dire, latrimurti dei motivi che ci permettono gli spostamenti in deroga sempre, in ogni caso. Come in ogni caso rimane consentito e rientro la propria residenza, domicilio o abitazione, sempre con quella precisazione che avevo fatto, cioè il ritorno in questi luoghi non serve per evitare il lockdown quando ci sia il coprifuoco dalle 22 alle 5. Per quanto non regolato da questo decreto legge, viene precisato che restano in vigore le misure adottate con il PCM, con decreto del Ministero della Salute, adottate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 19. Dal 16 gennaio al 5 marzo, sempre decreto legge, sull'intero territorio nazionale sono introdotte alcune cose interessanti, una in particolare. In ambito regionale, lo spostamento verso solo, verso una sola abitazione privata, come ormai siamo abituati a sentirci dire, è consentito una volta al giorno, una sola volta al giorno, nel solito arco temporale compreso tra le 5 e le 22. Sempre con il limite delle due persone ulteriori rispetto a quelle che già vi convivono, a cui si possono sommare ovviamente i minori di anni 14, sui quali gli accompagnatori esercitano la potestà genitoriale o disabili o non autosufficienti conviventi. Nelle regioni invece arancioni, l'ambito di spostamento è ristretto a quello comunale, è chiaro? Ma in questo caso è previsto per l'eccezione solita per i comunelli che abbiano popolazione non superiore a 5.000 abitanti. Quindi, su tutto il territorio nazionale, spostamento entro la regione nel caso di regioni gialle, una volta sola al giorno dalle 5 alle 22. All'interno del comune, nelle regioni arancioni, una volta sola al giorno, privata abitazione dalle 5 alle 22, in questo caso però c'è anche lo spostamento a distanza non superiore a 30 km dai confini, come ormai sappiamo, ed esclusione del trasferimento verso il capoluogo di provincia per i comunelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Con ordinanza del Ministero della Salute vengono anche create, cioè potranno essere create tramite ordinanza del Ministero della Salute, le cosiddette zone bianche che poi vedremo meglio che cose sono. La violazione delle disposizioni dell'articolo 1 di questo decreto trova ormai la consueta sanzione a cui siamo abituati tutti nell'articolo 4 del Decreto Legge 19 del 2000, convertito con la legge, credo 33, ma non me lo ricordo mai, è la solita, quindi nessuna novità. Veniamo adesso invece al DPCM del 14 gennaio, che dal 16 gennaio, quindi da domani, sostituirà il DPCM del 3 dicembre del 2020 e resterà in vigore, efficace, salvo modifiche che possono intervenire fino al 5 marzo 2021. Le disposizioni delle ordinanze del Ministero della Salute dell'8 gennaio che riguardavano le regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto si continuano ad applicare fino a eventuale adozione di nuove ordinanze e comunque non oltre il 24 gennaio. Quindi quello che è già stato deciso come classificazione dal Ministro della Salute, se non interviene una nuova classificazione per queste regioni, vale fino al 24 gennaio. Il DPCM di fatto conferma tutto il sistema di comportamenti che era già previsto con il precedente DPCM Quindi di fatto non sono introdotte tante innovazioni, nessuno introdotte alcune però significative. In particolare la zona gialla, o meglio, noi siamo stati abituati a pensare fino a praticamente oggi che lo spostamento di due persone più i minori di fra 14 anni, i non autosufficienti e diversamente abili Per una volta al giorno, verso una privata abitazione, eravamo abituati a considerarlo un allargamento delle facoltà di spostamento rispetto ad una ipotesi generale di restrizione Con questo DPCM, nel caso invece delle zone gialle e anche delle arancioni, in realtà questa facoltà è una facoltà che però in realtà diventa un divieto Cioè, restringe, perché prima nelle zone gialle il vincolo dello spostamento di una volta sola al giorno e verso una privata dimora non c'era Quindi attenzione perché c'è questa novità che è abbastanza significativa insomma Per il resto viene confermato di fatto tutto l'apparato di prima Riaprono invece in zona gialla, e questo ovviamente sapete che io sono un appassionato quindi non può che farmi piacere I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura Riaprono però soltanto dalla lunedì al venerdì, quindi esclusione dei giorni festivi Nel caso ci fossero festivi infrasettimanali, ovviamente anche quelli ricadono Ma non si parla di prefestivi Quindi dal lunedì al venerdì a condizione ovviamente che gli ingressi vengano contingentati di fatto con applicazione dei protocolli A cui eravamo già abituati prima della chiusura di questo tipo di strutture Quindi rispettando i protocolli ingressi contingentati, musei e altri luoghi della cultura Aperti dal lunedì al venerdì Escludendo i festivi, quindi sabato, domenica Ovviamente sempre ed eventuali festivi infrasettimanali Noi abbiamo avuto per esempio la festa del Santo Patrono l'altro giorno Quindi ecco, eventi, festività di questo genere Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali all'interno dei mercati Dei centri commerciali, delle gallerie commerciali, dei parchi commerciali e delle altre strutture assimilabili Ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti di vendita di genere alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie Adesso c'è invece la novità che riguarda le attività di somministrazione Perché continuano ad essere consentite dalle 5 alle 18 Consumo al tavolo consentito per massimo 4 persone per tavolo A meno che non ci siano persone conviventi Dopo le 18 è vietato il consumo di cibo e bevande nei luoghi pubblici aperte al pubblico Come già sapevamo, rimane consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi E nelle altre strutture ricettive limitatamente ai clienti che siano alloggiati Anche questo lo sapevamo Rimane consentita la consegna a domicilio con rispetto a delle solite norme igienico-sanitarie di sicurezza Covid Rimane consentita fino alle 22 la ristorazione con asporto Con il divieto consueto anche questo di consumazione sul posto e nelle adiacenze Ma ecco la novità Per i soggetti che svolgono come attività prevalente Una di quelle identificate dei codici ATECO 56.3 e 47.25 Che sono bar e altri esercizi simili senza cucina E il commercio ha il dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto Bevande alcoliche o analcoliche L'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18 Quindi diciamo così Stretta anti-movida L'asporto nei bar e in questo altro tipo di attività è consentito fino alle 18 Domandone dal solito milione di dollari E quali sono queste attività? Essendo esercizi specializzati Mi verrebbe da dire che sono le enoteche Qualche collega le chiama anche bottiglierie Ecco cose del genere La questione secondo me è questa Questa norma appunto vuole contrastare il fenomeno della movida La movida è fatta da sicuramente bar Fatta nel senso che le attività che permettono la movida sono tendenzialmente i bar E però anche quella pletora di piccoli esercizi molto spesso etnici Che vendono birra e alcolici a prezzi molto concorrenziali Diciamola così con un eufemismo I quali, oso immaginare, bisognerebbe fare una verifica appunto dei codici ATECO Ma accetto scommesse, anche se sono vietate I quali sicuramente non rientrano nel codice ATECO 47.25 Quindi questi ahimè temo che possono continuare imperterriti la loro attività Per esempio i supermercati Non essendo esercizi specializzati ma generalisti Non rientrano in questo divieto Continuano a essere consentite le attività delle mense C'è del catering continuativo su base contrattuale Quindi anche da questo punto di vista nessuna novità Leggevo un contributo molto interessante Della amica e veramente una donna di una fantastica preparazione Che è Miranda Corradi Che parlava di ristoranti Ci sono dei ristoranti che fanno delle convenzioni Con delle ditte Quindi fanno di fatto il servizio di mensa Bene, se col commercialista si fanno inserire come codice di attività ATECO In quel caso quello di mensa Possono continuare a farlo anche se sono ristoranti Ovviamente restando chiusi al pubblico Quindi non fanno asporto per gli altri Cioè per i clienti normali Possono solo somministrare eventualmente ai dipendenti delle ditte convenzionate E fare anche per questi asporto Ma per il resto devono restare chiusi Ok? È chiaro che potrebbero fare una cosa del genere per il pranzo E potrebbero invece per la cena fare l'asporto generalizzato Quindi essere aperti per l'asporto A questo punto la questione diventa di dare la corretta informazione Quindi magari una qualche cartellonistica Che aiuti a capire E soprattutto aiuti a capire gli addetti al controllo Ok? Dicevamo... Beh, della zona bianca parlo alla fine Nel caso invece di regioni che si trovino nel colore arancione Quindi incidenza settimanale di contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti Per cui vanno collocati in uno scenario di tipo 2 E in questo caso, lo dico come regola anche per la rossa È possibile comunque nelle regioni arancioni e in quelle rosse Emettere delle ordinanze specifiche Per individuare delle parti del territorio regionale Da esentare rispetto a queste misure restrittive Quindi diciamo che si potrebbe fare una regione bicolor Ok? Potrebbe esserci una regione bicolor A seconda delle... appunto Di alcune specifiche parti del territorio regionale Ma vabbè Allora, nell'arancione è vietato di spostamento In entrate e uscite dalle regioni Salvo i soliti... Anche qui di fatto non cambia nulla Viene però introdotto anche qui Lo spostamento verso una sola abitazione privata Consentito nell'ambito del territorio comunale Una sola volta al giorno Nel solito limite temporale tra le 5 e le 22 E ovviamente nel caso di comuni Non stiamo a ripeterci che lo sappiamo già Nelle zone arancioni vengono sospese le attività dei servizi di ristorazione Ad esclusione delle solite, abbiamo detto, mense, catering continuativo su base contrattuale Viene consentita, cioè rimane consentita, lo sappiamo già, la consegna a domicilio E l'asporto fino alle 22 Con il divieto di consumazione sul posto Per invece i soliti, cioè i soliti, no I nuovi codici a teco che abbiamo visto prima Asporto consentito fino alle 18 Nell'arancione vengono sospese le mostre E l'apertura al pubblico di musei E degli altri luoghi della cultura Ad eccezione delle biblioteche e degli archivi Dove si può accedere attraverso un sistema di prenotazione E rispettando comunque sempre i protocolli di contenimento E anche questo lo sappiamo già Nel caso invece di territorio o di regioni rosse Dico territorio perché anche l'intero della regione Può essere individuata, concesso una deroga Come abbiamo detto prima Ovviamente c'è l'ulteriore restrizione Quindi c'è il divieto di spostamento Fuori dalla propria abitazione Di fatto, ok È previsto solo una volta al giorno A questo diciamo siamo già abituati Le due persone più o meno di 14 anni Eccetera 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 Sono sospese le attività commerciali al dettaglio Ad eccezione delle vendita di genere alimentare Di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM Niente di nuovo rispetto a prima Sia negli esercizi di vicinato Nelle medie e nei grandi strutturi di vendita Anche ricompresi nei centri commerciali Purché sia consentito l'accesso alle solide attività Sappiamo già tutto Sono chiusi A prescindere dall'attività svolta I mercati Salvo Quelli diretti alla vendita Dei soli generi alimentari Prodotti agricoli E florvivaistici Restano aperte le edicoli, tabaccai Le farmacie e le parafarmacie Sospesi i servizi di ristorazione Salvo le solite mense Rimane consentito la consegna a domicilio Rimane consentito come al solito L'asporto fino alle 22 E fino alle 18 per i codici Ateco Soprattutto come prima Ok Tutte le attività sportive Svolte nei centri sportivi Anche all'aperto Sono sospese Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni Organizzati dagli enti di promozione sportiva Salvo quelli ritenuti di interesse dal CONI Rimane comunque Possibilità di svolgere individualmente Attività motori In prossimità della propria abitazione Ma rispettando sempre il metodo di distanza E è consentito comunque anche Lo svolgimento di attività sportiva Ma solo all'aperto E solo in forma individuale Restano sospese le attività inerenti E inserite alla persona Diverse da quelle individuate Nell'allegato 24 Che nel caso vi andate a vedere Cioè niente di nuovo In realtà insomma Sono sospese mostre e musei Ok Bene Questo è Quanto